Palloncini colorati, fischietti in bocca, slogan e cartelloni, si sono dati appuntamento in piazza del popolo a Pesaro, presidi, insegnanti, allugni e genitori per protestare contro la riforma della scuola del governo Renzi. Non si è mai vista nella storia della scuola un ministro della pubblica istruzione che insulta gli insegnanti perché ci hanno detto che siamo squadristi e anche abulici, gli squadristi direi che non c'è bisogno di commentare come insulto, considerando poi che avevamo delle armi solitamente considerate letali, tipo i coperchi, le pentole, è una vergogna. Anche le mamme oggi presenti in piazza del popolo? Sì, sì, siamo con i nostri figli, li sosteniamo perché comunque vogliamo una scuola che sia della famiglia, degli insegnanti e non permettiamo insomma che ci chiudano la pocca, ecco. Dopo sette anni, cinque sindacati più rappresentativi del comparto scuola hanno scioperato insieme e nelle piazze presenti migliaia di giovani studenti. Oggi niente scuola? No, oggi niente scuola perché sosteniamo i professori con questo sciopero e abbiamo organizzato un flash mob. La buona scuola siamo noi perché le riforme devono essere fatte per il bene degli studenti, dei professori e per avere appunto una scuola giusta per tutti.